In Gran Bretagna, dove continua a crescere il numero di morti di Covid-19, oltre 81.000, mentre il virus continua a circolare con la variante più contagiosa, è corsa contro il tempo per vaccinare il maggior numero possibile di persone. Il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, ha lanciato una campagna di vaccinazione di massa. Si punta a vaccinare 200.000 persone al giorno, 15 milioni di persone tra le più vulnerabili entro la metà di febbraio. Stadi sportivi, podromi, centri congressi sono stati adibiti a grandi centri di vaccinazione, in particolare a Londra e a Birmingham. Gli ospedali sono allo stremo. Qui siamo nel Surrey, a sud ovest di Londra, dove è stato allestito un obitorio temporaneo, perché quelli degli ospedali sono pieni. La variante inglese più aggressiva corre anche nel resto del mondo. La Francia, mentre cerca di recuperare i ritardi nella somministrazione dei vaccini, ha esteso il coprifuoco notturno in altri otto dipartimenti e il nuovo ceppo è stato riscontrato anche in Australia, in Russia e in Messico. E sebbene in tutto il mondo stiano arrivando i vaccini, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, attraverso Dale Fisher, presidente della rete di allerte in risposta alle epidemie, avverte che non si tornerà rapidamente alla normalità. È necessaria l'immunità di gregge, ma non la vedremo nel 2021, ha detto, riferendosi a molti paesi poveri in cui sarà più difficile vaccinare la maggioranza della popolazione, oltre ai problemi legati alla fiducia della comunità in molti paesi e alle nuove potenziali mutazioni del virus. Intanto però un team di esperti è in arrivo in Cina per indagare le origini del Covid.